Sarebbero sbarcati all'Arcella in zona piazzale Azzurri d'Italia, San Carlo ed intorni da un paio di settimane. Una novità, spacciatori giovanissimi, minorenni, si muovono fin dal mattino presto alle prime luci dell'alba dopo aver dormito all'aperto perché i clienti della droga a quell'ora ci sono già. La notizia del fermo di un quattordicenne nordafricano preso e denunciato dai vigili urbani mentre vendeva una dose di cocaina appena fuori dalla galleria San Carlo e via Cardinale Agostini ha fatto rialzare la voce agli abitanti dei rioni limitrofi. L'avevamo già detto, ci raccontano pretendendo l'anonimato, anche a un paio di assessori passati di qua. Un grido d'allarme che si è avverato e che in parte è stato fermato con l'arresto di domenica sera ma che pare abbia numeri importanti nella quantità di pusher minorenni, maschi, femmine, italiani e stranieri, nei consumatori e nelle dosi vendute. Durante il mercato settimanale spariscono, nel tardo pomeriggio riappaiono, organizzati e sfrontati. Se minori di 14 anni non sono punibili per legge. Il quattordicenne scoperto domenica ha tentato di colpire i vigili per evitare la perquisizione. Aveva 165 euro in contanti frutto dello spaccio. Dopo essere stato identificato, il Tribunale dei minori di Venezia ha deciso di affidarlo a una comunità protetta.